Sebastian è il maggiordomo di Lily. Contrariamente al padre di Lily, sembra che Sebastian approvi il suo desiderio di combattere. Apparso nei prologhi e nei filmati finali di Lily di Tekken 5 Dark Resur Action e di Tekken 6, attualmente è un personaggio giocabile solo in Tekken Tag Tournament 2. Per motivi non specificati, il suo stile di combattimento è uguale a quello di Lily, con solo qualche piccola variazione. Nonostante i due non si siano allenati né abbiano combattuto assieme. Essendo in Tekken Tag Tournament semplicemente un gioco-character, non si sa se in realtà canonicamente egli sappia davvero combattere, né quando e dove avrebbe imparato a farlo. Si può ipotizzare che Sebastian abbia imparato tutte le mosse di Lily semplicemente guardandole mentre assisteva a tutti i suoi combattimenti. Grazie a tutti.